Eccoci qua, figuriamoci se non combino qualche guaio io con la tecnologia non sono più Emiliano Schincaglia, buonasera, perdonateci. Allora, questa sera abbiamo una puntata molto speciale, innanzitutto diamo il bentornato al gruppo editoriale TV7 a Danila Ruffini, candidata ricordiamo sindaco Padova 2014 e dicevo una serata molto particolare perché l'abbiamo intitolata un po' così, candidati sotto la lente. Danila Ruffini è il primo ospite, sappiate che successivamente ci alterneremo con Alberto Salmaso. Andremo in poche parole a fare le pulci di questa campagna, di questo periodo molto sicuramente faticoso, l'ho chiesto infatti nelle backstage alla Ruffini, ho chiesto come va, come stai e com'è, effettivamente si corre, questo è da ammettere, è valso per tutti, quindi togliamo i discorsi insomma di chi ha vinto, chi non ha vinto, si corre, è un periodo dove ognuno logicamente cerca di dare il meglio di se stesso per far capire insomma che il proprio programma, lo sapete, dovrebbe essere quello migliore per la città. Allora ricordiamo il suo risultato, quindi 1,4%, ricordiamo che ho diventato con Ambiente, Salute e Cultura come liste civiche, giusto? Sì c'era la lista civica Ambiente, Salute e Cultura e c'era Rifondazione Comunista. Esatto, quella è proprio quella madre, giusto? Sì, la coalizione si chiama l'altra Padova, una città in comune. Allora Ruffini, partiamo da innanzitutto come stiamo, mi sembra doveroso, abbiamo detto stanca, ok, delusa, non delusa, iniziamo ad addentrarci un po' nel discorso. Sicuramente il risultato lo speravo migliore, non sono però delusa da quello che noi abbiamo fatto in questi mesi, non solo in questi mesi ma anche in questi anni perché la nostra, io lo ricordo sempre, non è stata un'azione politica rivolta solo alla campagna elettorale, noi facciamo lavoro politico, lavoro di massa, radicamento sociale, facciamo la politica tutti i giorni, quindi non ci concentriamo solo sulle campagne elettorali, stiamo quotidianamente in mezzo alla gente, la nostra coalizione è formata da persone che quotidianamente si impegnano nel sociale, noi gestiamo uno sportello sociale contro la crisi ormai da più di tre anni, facciamo i gruppi di acquisto popolari, anche questo weekend ne facciamo 5 in 5 diversi quartieri della città, quindi non sono delusa dal lavoro che abbiamo fatto, sono delusa sicuramente dal risultato che poteva essere maggiore, però se noi analizziamo il voto vediamo che questo si è concentrato principalmente sui due maggiori candidati e la sinistra ha avuto un risultato negativo, non soltanto noi, anche la sinistra che correva in accordo con il centrosinistra, mi riferisco ad esempio a Stell, sono sicura che se noi fossimo andati in alleanza con Ivorossi avremmo sicuramente fatto un risultato maggiore, perché il nostro elettorato premia anche l'unità, cioè che riconosce la coerenza però premia anche l'unità. Infatti qui appunto dice bene, è stata premiata sicuramente la compagine, giusto? Allora vado un pochino a spulciare tra varie dichiarazioni, varie cose trovate qua e là insomma dette nell'arco della campagna elettorale, non avendo trovato l'accordo con Padova 2020 ha ufficializzato la candidatura con la coalizione, l'altra Padova, una città in comune e il sostegno delle civiche, ambiente, salute e cultura, azione civile Padova. Cosa non è scattato come innamoramento con Padova 2020? Che mi viene da dirlo subito, vabbè comunque è scritto su tutti i giornali, sta scattando o dovrebbe essere scattato invece con qualcun altro? C'è stato un improvviso colpo di fulmine. Che inizialmente non ci doveva essere, no? Beh, allora diciamo... Non attacchiamo però, parliamo di esatto. Ma di quello che fanno gli altri mi è sempre interessato molto poco quando naturalmente non ci sono delle cose che sono contrarie alla legge o sono, come dire, contrarie ai principi costituzionali. Allora, purtroppo con Padova 2020 diciamo non c'è stata una sintonia politica in quanto loro si sono dichiarati non vicini agli ideali della sinistra politica, hanno detto che non erano né di destra né di sinistra, quindi sai, è difficile per chi come noi porta avanti determinati ideali comprendere questo, diciamo, essere... Non posizionati forse chiaramente... Sì, pesci in barile, ecco, pesci in barile. Dice lei, questo termine non lo conoscevo. Pesce in barile, dice che oggi va così, domani ha giusto il tiro, insomma, nel senso che né carne né pesce, ecco, va bene? Dicare azioni... Dico quello che penso, non è la prima volta che lo dico. Sono sempre abituata a dire quello che penso e non me ne vergogno, penso che la verità sia rivoluzionaria, come diceva qualcuno. E' un qualcosa che sta mancando sempre di più, mi viene da dire. Purtroppo sì, e penso che i cittadini si distaccano molto anche dalla politica e dai politici perché non ritrovano sempre, diciamo, questa sincerità. Quindi ci hanno detto, insomma, che loro avrebbero eventualmente fatto un accordo con noi, soltanto se avessero loro indicato chi candidare nelle nostre liste e soltanto se avessimo partecipato alla coalizione, eventualmente con soltanto delle liste civiche. E quindi dici, a casa mia decido io bene o male, non è che tu mi dici chi ospitare o chi non invitare. Sì, dopodiché eravamo d'accordo su molti punti del programma, che erano totalmente contrari a quelli di Ivorossi. Adesso bisogna capire se è Ivorossi che ha cambiato programma o se l'ha cambiato Padova 2020. Altra dichiarazione, e mi ha colpito personalmente, non ho speso neanche 2.000 euro per la campagna elettorale contro 90-100.000 euro che ho visto girare, insomma, tra manifestini, santini e spot elettorali di altri candidati. È vero? Sono orgogliosa di questo. Lo sono perché... Però c'è la fregatura di fondo. C'è la fregatura perché la comunicazione è importante. Esatto. E certo, la comunicazione è importante, però ritengo anche che è un affronto nei confronti delle persone che oggi fanno fatica veramente a mettere qualcosa sul piatto, a pagare l'affitto, a pagare le bollette, a comprare le scarpe nuove ai figli, spendere tutti questi soldi per una campagna elettorale. Dica una stupidata, ragioniamo insieme Ruffini. Eh, però uno potrebbe rispondere, sì ma quei 90-100.000 euro li ho dati comunque a dei lavoratori, nel senso ho fatto girare l'economia. Potrebbe essere letta anche così? I contratti di lavoro che hanno stipulato con questi lavoratori, quando mi fanno vedere come hanno speso i soldi, allora ci possiamo stare. Io finora ho visto soltanto tante carte, tanti faccioni, tanti faccioni sulle, diciamo così, sulle nostre strade, tanto uso degli spot, dei messaggi elettorali, non solo gratuiti e quelli, le assicuro, che costano molto. Beh, logicamente, lavoro per un emittente privato, quindi so come funziona il gioco. Giustamente, ma giustamente, ecco, quindi io ritengo che la politica debba essere, come dire, molto trasparente su questo punto, io non avrei mai speso tutti quei soldi, mi dispiace. È stata coerente, infatti ha detto che più o meno 2.000 euro sono stati spesi. Sì, adesso dobbiamo fare i conti perché poi bisogna rendicontare tutto e siamo lì, insomma. Rossi non ha avuto bisogno dei nostri voti al primo turno, penso non ne avrà bisogno neanche adesso, quindi si parla del ballottaggio. Prima del voto Rossi è stato chiaro, convinto di non aver bisogno dei rompi come noi. Penso rimanga di questa idea anche adesso. Mi sono sbagliata perché Rossi invece ci ha chiamati e ci siamo incontrati, perché giustamente ritengo che una interlocuzione con il centro-sinistra ci possa essere, lo pensano anche loro, rimangono tutte e tutte le differenze di fondo, perché non è che si può cambiare idea, noi non aspiriamo a nessun posto, a nessuna poltrona, nessuno di noi vive di politica. Lavoriamo, siamo volontari e siamo orgogliosi di questo. Però con tutte le differenze che rimangono e rimarranno e con l'opposizione che noi faremo sicuramente all'eventuale giunta Rossi, sui temi ambientali, sui temi della costruzione del nuovo ospedale, sulla vendita della società pubblica di trasporti, sull'urbanistica, sulla gestione del verde, sono tutti temi che ci fanno rimanere distanti. Abbiamo posto però una discriminante su queste differenze. Noi abbiamo detto di fronte a un pericolo della destra reazionaria lepeniana che si accorda con le pen e parlo della Lega Nord, noi dobbiamo dare assolutamente un messaggio ai nostri sostenitori, a quelli che ci hanno votato, ai cittadini di Padova, di evitare che a Padova, una città che ha una delle più antiche università d'Italia, una città che esprime una storia importante e che ha visto nel passato affermarsi i valori di antifascismo, di solidarietà. Spaventa insomma, può spaventare e preoccupare. Andiamo a, come dire, sostenere Ivorossi contro Bittonci. Noi faremo una campagna elettorale per questo partaggio contro Bittonci. Mi sembra un parallelo un po' forte il fatto della destra lepeniana, la Francia. Sappiamo il voto europeo, sappiamo anche il voto... Senta, io le dico... Però siamo così distanti e così, insomma, case recci, diciamo. Non ho fatto io la conferenza stampa con la Marine Le Pen, l'ha fatta il segretario del partito di Massimo Bittonci. L'ha fatto Salvini ieri o stamattina, adesso ho perso anche un po' la cognizione del tempo. Non mi ricordo se ieri, credo ieri, sì, ci sono state le conferenze stampe dei gruppi europei che si vogliono unificare e a me spaventa pensare che la nostra città venga governata in maniera populista, in maniera, diciamo, con gli strumenti del populismo, contro qualcuno e non a favore di tutti i suoi cittadini. Ma io vedo infatti che si sta delineando un pochino la terminologia. Da una parte apertura, dall'altra oscurantismo. Insomma, mi sembra un po' drastico utilizzare questi temi, però insomma, ai posteri si dice l'ardua sentenza. Altra dichiarazione. In questa città ha realizzato un capolavoro, direi da manuale, perdendo migliaia di voti, stiamo parlando del prosindaco Ivorossi, soprattutto alla luce delle consultazioni europee. non è riuscito nemmeno a giovarsi del trascinamento del Partito Democratico guidato da Matteo Renzi. È vero, è sotto gli occhi di tutti. Ha perso, mi pare, siamo intorno ai 10.000 voti, tra le votazioni delle europee e le votazioni delle comunali. Comunque ricordiamo un grande successo, lo stesso per la sinistra, giusto? Sì. Non è soddisfatta. Assolutamente. Se noi pensiamo che un senatore della Repubblica, capo gruppo della Lega Nord, che non ha mai abitato a Padova, che ha fatto il sindaco 10 anni a Cittadella, viene a Padova e si posiziona soltanto a 2.000 voti di distanza da Ivorossi, che è nel Consiglio Comunale di Padova da 20 anni, fa l'assessore e il vice sindaco da 10, secondo me non è un buon risultato. Dico una sciocchezza, non può aver giocato a sfavore di Ivorossi comunque un periodo un po' in fausto per la città di Padova, nel senso uno poi si trova le gatte da pelare in mano, non è colpevole di spaccate e tutto il resto, poi è facile arrivare e dire allora io faccio questo, faccio quell'altro, questo è un esempio, questo è solo un esempio, so che c'è una fusione molto, esatto, io gli rimprovero il fatto che lui non abbia saputo tenere insieme, e la responsabilità di questo ce l'ha il maggiore partito della coalizione, non abbia saputo tenere insieme tutta la sinistra o tutte quelle forze che comunque 5 anni fa avevano partecipato e avevano ambito al governo della città che poi hanno realizzato, quindi noi, Colasio, ma lo stesso Fiore voglio dire. Ok, però noi adesso focalizziamoci su di lei, perché se no parliamo di... Ma lei mi ha fatto una domanda, il capolavoro è proprio questo, è proprio questo. Allora, io lancio la pubblicità e dopodiché iniziamo un pochino con altre dichiarazioni video che ricordano un pochino passo dopo passo la campagna elettorale. Sapete che se vi fa piacere potete porre domande anche voi o contestare magari una dichiarazione piuttosto che un altro, insomma, siamo aperti insomma a voi. 049 80 777 57. Mi raccomando, restate in nostra compagnia, vediamo se sbaglio ancora pulsanti. Speriamo di no. Sotto pancia, mi auguro di no. Un po' di stanchezza. Passiamo per tutti gli anni. Sotto pancia, mi auguro di no.